Il dossier migranti verrà aggiornato, con una relazione alla Presidente della Commissione che racconterà dei passi concreti sulla base delle conclusioni dello scorso febbraio. Io posso dire che sono soddisfatta della bozza di conclusioni, ultima versione che sta girando, che appunto chiede alla Commissione di procedere spedita e rimanda su uno stato di verifica di queste misure al prossimo Consiglio europeo. Quindi direi che possiamo confermare il fatto che il tema dell'emigrazione è un tema considerato oggi centrale, una cosa se vogliamo impensabile fino a qualche mese fa e che viene seguito passo passo dal Consiglio. Questa è una ottima notizia. Presidente, sul futuro delle auto oggi la von der Leyen incontrerà Scholz, sembra si vada verso un compromesso sui carburanti sintetici. Come vede questo incontro a due e che cosa significherebbe l'esplosione del vieto? Ma guardi, sull'incontro a due non è nulla da dire, sono normali, accadono continuamente e ne facciamo anche noi. Per quello che riguarda la materia, voi sapete che su questo siamo in prima linea, nel senso la tesi che noi continuiamo a sostenere e che ribadiremo, è che fermi restando gli obiettivi della transizione che condividiamo, noi non riteniamo che l'Unione debba occuparsi anche di stabilire quali siano le tecnologie con le quali arrivare a quegli obiettivi, anche perché ci sono delle tecnologie sulle quali l'Italia e dunque l'Europa sono potenzialmente un'avanguardia e rispetto a un'ipotesi di questo tipo decidere di legarsi a tecnologie che invece sono di fatto detenute come avanguardia da nazioni esterne all'Unione, secondo me è una scelta che non favorisce la competitività del nostro sistema, ma mi pare una tesi assolutamente di buon senso e quindi confidiamo che possa passare anche per quello che riguarda i biocarburanti. Presidente, sul patto di instabilità tende che ci sia una posizione troppo rigida da parte dei paesi frugali su un rientro del debito che sia più rigido e più rapido da parte dei paesi dell'alto debito? Ma guardi, su queste materie come si sa, insomma ci sono sempre delle visioni abbastanza differenti, però io penso che l'Unione Europea debba imparare dai suoi errori, dal passato, dalla realtà che stiamo affrontando. Oggi a noi sono chiesti, a tutti i paesi membri sono chiesti importanti investimenti per la transizione ecologica, per la transizione digitale, per le catene di approvvigionamento strategiche, che è altra scelta sulla quale oggi si modificano una, se vogliamo, assenza di attenzione che c'è stata in passato. Non si può pensare che gli investimenti necessari a rendere competitivo il nostro sistema non vengano tenuti in considerazione nella governance e io credo che la sfida debba essere, rispetto a quello che abbiamo visto in passato, per noi sarebbe tragico tornare ai parametri precedenti, diciamo una governance più attenta alla crescita e non solamente attenta alla stabilità. Ci sono dei passi in avanti, ma su questo bisogna ancora lavorare molto. Presidente, tu parla di questo punto di vista e di condizione del prezzo dell'antica, il risparlamento dell'antica, il risparlamento dell'antica, il risparlamento dell'antica, non si promuovano? No, francamente non mi preoccupano, io ripeto, insomma, al di là delle posizioni espresse e voglio dire del necessario richiamo a continuare a lavorare per una soluzione di conflitto sul quale ovviamente tutti lavoriamo, il punto è capirsi su cosa sia utile effettivamente per arrivare alla fine. nel conflitto, io ho detto come la penso, non c'è nell'attuale contesto misura più efficace di garantire un equilibrio tra le forze in campo, che è l'unico modo per alla fine costringere, se vogliamo, a una negoziazione che deve essere però giusta, non si può prescindere da chi è l'aggressore e da chi è l'aggredito. Non sono preoccupata perché poi io guardo, vado come vi ho detto molte altre volte, ai fatti e nei fatti io su questo, sulla linea italiana, e poi sapete essere una linea molto chiara, molto chiara, io non ho mai avuto problema. Avrà bilaterali, Presidente? Vedo adesso il Primo Ministro Moravieschi, programma un incontro con il Primo Ministro Greco, forse anche allargato ad altri paesi sulle materie particolarmente della governance, e sono in contatto con Emmanuel Macron. Vediamo. Grazie, arrivederci.